Dice che è stata quasi la sua vera scuola di calcio, perché il Milan dove era De Zerbi giocatore del settore giovanile era un Milan stellare, quindi un Milan che era il top dei top a livello mondiale. Quindi sicuramente quello gli ha lasciato un legame particolare, però dopo quando si diventa professionisti secondo me si giudicano un po' i progetti. Quindi la possibilità di, in questo momento mi sembra che l'elite del calcio mondiale potrebbe portarlo da un'altra parte eventualmente, però parliamo di l'anno prossimo. Tra qualche anno invece secondo me potrebbe davvero tornare in Italia, non so poi in quale squadra, però lì dipende molto sempre dal progetto, perché tutti gli allenatori sono portati dalla passione ma anche dall'ambizione. Quindi l'idea è quella di fare bene, quindi dipende un po' dal progetto, cioè bisogna convincerlo. Tra l'altro io credo che Roby sia uno dei rarissimi casi anche, non voglio farne un santino ma è la verità, è uno dei rarissimi casi che sono sicuro che non sceglie in base all'ingaggio. Perché tanti invece lo farebbero, io credo che lui potrebbe anche rinunciare a un certo tipo di ingaggio magari perché è così stimolato da un certo tipo di progetto. Quindi non è solamente quello, è proprio il discorso tecnico.